ciao ragazzi ho scoperto questo programma everyone piano che si può scaricare da internet e vi permette di suonare il piano utilizzando la tastiera del vostro computer allora ad esempio la nota re eccola qua con questo tasto re do si la sol la si do re ok quindi uso proprio anche le dita del brano sentire sentite un po ovviamente vedete che quando io vado a schiacciare il tasso della tastiera si schia si diventa verde anche il tasto del pianoforte virtuale provo a suonarvi il numero 16 buono studio e buon divertimento se volete provare questo nuovo programma